Siamo Taranto ha deciso quest'oggi come in tantissime altre occasioni di rimboccarsi le maniche di dimostrare il proprio amore verso Taranto attraverso un'azione di bonifica, di pulizia in collaborazione con Chima Ambiente Amiu. Siamo qui presso la favolosa Baia del Tramontone a Taranto e ho al mio fianco una delle socie fondatrici. Abbiamo visto una grande, una vostra grande partecipazione, un entusiasmo, un amore che contagia tutti. Il suo nome? Susanna De Giorgio. Benissimo. E allora parliamo dell'esperienza di questa mattina. Poteva stare tranquillamente a casa, sdraiata, preparare un bel pranzetto, godersi la famiglia. Invece no, si ama Taranto. Si ama Taranto e la cosa che più ci spinge a fare tutte queste azioni è che negli anni passati il nostro territorio è stato vandalizzato e poco curato. Quindi noi volontariamente la fortuna di aver trovato tante persone con lo stesso intento di voler dare questa impronta anche per dare un esempio a chi ci viene giornalmente a mare perché la nostra città è spettacolare sotto ogni punto di vista. Quindi dare l'esempio di non sporcare, così si rende anche più facile l'amministrazione poter pulire. Abbiamo tutto questo territorio che è splendido e la cosa che abbiamo notato è che se non parte da noi, anche se ognuno facesse il proprio davanti a casa propria, nei suoi 3-4 metri, sarebbe tutto più facile, tutto più bello e renderemo grazie e giustizia a questo territorio che è fantastico. Che merita tanto. Che merita sì.